allora vai 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 si sente o no canta un po canta un po i mammutones ma come non sei un mammutone come c'è la papaglia qui che cos'è qui è una sciarpa di lusso si fa di mangiare si fa di spaghettino quella è ben cinghiale povero Matteino devi andare a lavorare ai tu vedi ah la mia la mia